Suono familiare questa frase a qualcuno, spero di sì. Magento è una piattaforma che offre numerosi modi di essere stesa ed è una delle piattaforme che si è affermata sul mercato proprio per questo. Il problema è che il primo modo con cui può essere stesa non è detto che sia quello migliore. E questa frase riassume, sintetizza quello che vedremo durante questo speech. Mi chiamo Alessandro Ronchi di Webgriff, lavoro con Magento dai tempi della iRubin Consulting per i più vecchi, che mi possono capire, quindi parliamo di parecchi anni fa. Potete leggere qualcosa su di me lì. La cosa che mi interessa maggiormente sottolineare in questa sede è la mia partecipazione alla community italiana e internazionale di Magento. È molto importante, a mio avviso, restituire alla community un po' di quello che si riceve. E la community Magento è una ottima community e in Italia sta crescendo molto. Quindi invito tutti, dal momento che attingete alle risorse del lavoro di tante persone che lo fanno molto spesso anche per passione e il tempo libero, a dare indietro un po' di quello che ricevete. Il talk. Il talk è un talk molto tecnico. Se non siete sviluppatori, avete mangiato molto, c'è un bellissimo talk in business track che avrei voluto ascoltare anch'io, quindi in questo senso non mi vendo benissimo, ma avete ancora tempo per fuggire. Principalmente è basato su Magento 1, ci sono alcuni concetti generali, quindi che valgono anche per Magento 2. Una piccola parentesi, Magento 1, a mio avviso, ha ancora vita molto lunga. Magento 2 è fighissimo, è bellissimo, uscirà in release candidate tra qualche mese, in general variability a fine anno, ma non aspettatevi di vedere progetti Magento 2 o di fare progetti Magento 2 molto, tra breve, perché comunque è una piattaforma che va imparata, è un framework completamente rinnovato, l'avete visto nei talk precedenti, e quindi a maggior ragione, quale migliore occasione di approfondire le conoscenze su Magento 1? Riguardo voi, mi aspetto che la platea sia una platea di sviluppatori, questi sono alcuni termini con cui spesso ci definiamo, forse il termine più corretto, il termine che dovrebbe esprimere meglio il nostro ruolo, invece è quello alle mie spalle, per cui non riesco a trovare una traduzione che renda giustizia in italiano, software craftman. Cosa significa? Significa avere un approccio allo sviluppo disciplinato e fare uso di strumenti e buone pratiche. Oggi vedremo un assaggio di cosa significa. Gli argomenti che tratto sono scorrelati tra loro, quindi salterò da un argomento all'altro, cominciamo appunto con i tools. Un buon programmatore, come dice Kent Beck, non è un genio, è semplicemente una persona normale che sa utilizzare buoni strumenti e adotta buone pratiche. E uno dei vantaggi di Magento, dell'ecosistema Magento, è quello di mettere a disposizione un elenco di tool decisamente interessante. Tra l'altro la maggior parte è free, per cui non c'è motivo di non utilizzarli. Qui ho fatto un'ulteriore premessa, riceverete le slide, quindi non preoccupatevi di fare screenshot o di prendere appunti, perché nelle slide oltretutto tutti i termini che vedete in arancione o verde se siete daltonici, sono linkati. Quindi ci sono tutti i riferimenti all'interno delle slide. Quello che mi interessa è che usciate da questo speech con un qualche spunto. Tanti, pochi, non importa. Quindi non sto a soffermarmi su tutti questi strumenti, perché non ce n'è il tempo. Però non so se li conoscete, quanti di questi li conoscete, una menzione speciale la merita N98 Mage Run, o Mage Run, perché è uno strumento che consente di eseguire tutta una serie di operazioni da command line, ha scavalcato, ha scalzato altri strumenti simili che lo precedevano come Wiz o Mage Tools, ed è molto utile, non solo perché consente di accedere a funzionalità di Magento da command line, ma anche e soprattutto perché può essere utilizzato, tanto per dire, per installare Magento 1 da command line, una funzionalità che Magento 2 ha nativa, ma che anche Magento 1 può avere attraverso questo tool. E soprattutto, ad esempio, noi lo utilizziamo in processi di deploy o di sincronizzazione di ambienti, perché essendo richiamabile da command line, può essere inserito in base script ed essere utilizzato in questo modo. Se volete approfondirne la conoscenza, c'è un'ottima guida di riferimento scritta da Alan Storm, che è un nome che, se frequentate la community, dovreste conoscere. Interessante perché questo tool è scritto anch'esso basandosi su un'architettura plug-in, ed è estensibile. Io stesso sto scrivendo un plug-in, spero di finirlo e metterlo a disposizione della community presto. Cambiamo argomento. Non so a quanti di voi è capitato di utilizzare il runtime di Magento al di fuori del classico contesto modulo. Usarlo da un modulo significa sostanzialmente dichiarare un action method in un controller all'interno di un custom modulo. Va bene, però si può fare anche di meglio. Può essere necessario testare del codice o profilarlo prima di andarlo a inserire in un modulo. E allora è possibile andare a scrivere uno shell script o addirittura utilizzare degli snippet di codice che non ci obbligano neanche a definire uno shell script. Uno shell script cos'è? È semplicemente una classe che stende alla MageShell Abstract che va a ridefinire o a definire alcune proprietà e valori perché occorre sapere che quando definiamo uno shell script lo store di default che viene inizializzato è uno store di admin, quindi abbiamo accesso a dati e valori di configurazione che non sono necessariamente quelli che ha un utente di front-end. Possiamo applicare, cambiare le variabili PHP perché uno shell script di default le legge dall'HTaccess in root di Magento. Non cambiate mai quei valori nell'HTaccess perché andreste a modificare anche il comportamento delle richieste HTTP. Quindi non cambiate i memory limit, non cambiate il max execution time dall'HTaccess, fatelo se scrivete uno shell script facendo l'override della funzione apply php variables. E poi ricordatevi che nel momento in cui scriviamo uno script di shell dobbiamo anche istruire, dire a Magento quale application area ci interessa inizializzare, cioè se vogliamo emulare un ambiente di front-end o un ambiente di back-end. Un bash snippet è qualcosa di ancora più essenziale, di fatto sono queste poche righe di codice, abilitate sempre il developer mode quando sviluppate, molto consigliato. A queste poche righe di codice occorre aggiungere soltanto poi l'inizializzazione appunto di un'area di front-end o di back-end, potete scaricare questi due snippet differenziati appunto per il tipo di area che si va a caricare dal mio, da questo url che rimanda al mio GIST. Cambiamo argomento. Se siete sviluppatori immagenti avrete sicuramente utilizzato la Mage Log. Il mio consiglio è non fatelo, ok? Contrariamente anche a quanto insegnavo tempo fa, non fatelo perché la Mage Log è una funzione statica, è una funzione statica, è una dipendenza, è una dipendenza che aumenta l'accoppiamento tra classi. Non fatelo perché esistono delle alternative, alcune di queste sono fornite da Magento stesso, con dei limiti che adesso vediamo. Possiamo usare un Log Adapter. Log Adapter è un model che viene fornito dal modulo core che di fatto ci mette a disposizione tramite factory una classe alla quale sempre nel constructor passiamo il nome del file name e con il metodo log andare a scrivere nel file specificato quello che ci interessa. Quindi il vantaggio innanzitutto qui è che non abbiamo più bisogno di specificare il file name tutte le volte che invochiamo la log, ok? L'altro vantaggio ovviamente è che in questo modo ci siamo resi indipendenti dalla dipendenza dal metodo statico. Ci sono dei contro perché purtroppo questa classe è implementata in maniera tale da imporre un livello di severity sui messaggi di log e oltretutto logga sempre, indipendentemente da quella che è la configurazione di Magento. Quindi sarà nostro compito andarla eventualmente a leggere o leggerla da una configurazione personalizzata e decidere se chiamare o meno il metodo. A differenza della Mage Log che invece automaticamente logga o meno a seconda della configurazione. Altra alternativa, questa introdotta dalla versione 1.8 di Magento, il logger model. Il logger model di fatto è un wrapper della statica Mage Log, quindi ne ha tutti i pregi e i difetti. Il pregio, come prima, è quello di non avere più, di svincolarci dalla dipendenza dalla funzione statica. Ritroviamo la possibilità di definire un proprio livello di severity per i messaggi, non siamo più forzati a loggare tutte le volte, però torna, diciamo, lo svantaggio di dover, come vedete qui, beh, qui non lo vedete perché logga, in questo caso logga sul file di default, però torna il problema di dover specificare, se vogliamo deviare il logging su un custom file, specificare il nome del file a ogni invocazione. Qual è la best practice? Il mio consiglio è di scrivervi una soluzione custom che ovviamente attinga soltanto ai pro che abbiamo visto. Ancora meglio usate quella che ho scritto io. Meglio ancora, forse non tutti sanno, che possiamo utilizzare monolog anche dentro Magento 1. Come fare? E lì ovviamente ci sono i link sia alla prima soluzione che alla seconda. Monolog, per chi non la conosce, è una libreria di logging molto conosciuta in ambiente Symfony e diventerà conosciuta in ambiente Magento 2 verso che la utilizzerà di default. è una libreria di log che consente di differenziare il log su diversi canali, anche in funzione del livello di severity. Quindi ad esempio possiamo farci mandare via mail un'eccezione grave e deviare su file o su slack o su quel canale che ci pare un messaggio meno importante. Chi conosce Monolog sa che è una libreria moderna che utilizza Namespace e Magento 1 non consente nativamente l'utilizzo Namespace perché non è compliant con PSR 0. Vorrei anche vedere nel senso che è nato prima Magento del comitato che poi ha standardizzato i livelli PSR. Fortunatamente però qualche anima Pia ha implementato un modulo che ci consente di estendere l'autoloader di Magento e di poter utilizzare anche librerie che fanno uso dei Namespace o comunque che aderiscono allo standard PSR 0 anche se dovremmo dire 4 perché il PSR 4 ha deprecato lo 0. Monolog è appunto una di queste. Ci sono molte librerie che possono essere utilizzate che utilizzano i Namespace. Il mio consiglio è cominciate a valutarne l'utilizzo soprattutto in questa fase di transizione in cui dovendo magari chiamati a sviluppare moduli che devono funzionare con Magento 1 e dovranno farlo anche con Magento 2 appoggiarsi a delle librerie comuni potrebbe essere una buona strategia. Cambiamo argomento. L'MVC. Questo è un argomento di carattere più generale quindi va bene anche per le cose che diremo vanno bene anche su Magento 2 e valgono comunque in generale. Come sapete Magento implementa paradigma MVC che è un ottimo esempio di come scomporre i componenti per separare le responsabilità. Questo non vuol dire che poi noi nei componenti non possiamo farci le peggiori porcate. Quindi anche quando andiamo a operare in un contesto MVC dobbiamo stare attenti a quello che facciamo e a come scriviamo il nostro codice. Partiamo da qualche osservazione legata ai model che sono l'entità che di fatto esprimono un problema in termini di stati e di logica esprimono un problema da risolvere in termini di stati e di logica secondo definizione classica. Come dovremmo strutturare i nostri model? Dovremmo renderli il più semplici possibile. Dovremmo separare le responsabilità in diversi models e un ottimo esempio è il modulo Paypal nativo di Magento. Diversi metodi di pagamento Paypal sono implementati in model differenti. Una modifica a un metodo di pagamento impatta presumibilmente soltanto su una classe e non su una macro classe o su più classi. Se Paypal avessi implementato un unico model e in quel model avessi incapsulato tutta la logica di business di tutti i suoi metodi di pagamento avremmo avuto degli effetti collaterali peggiori. Cerchiamo di essere chiusi, scorbutici non siamo aperti dichiariamo il più possibile metodi protetti se non privati e addirittura facciamo sì che le nostre classi siano final. Perché? Ad aprirsi ci si fa sempre in tempo ad essere più aperti con il mondo. Aprirsi subito è una cattiva idea perché ogni metodo pubblico che noi andiamo a scrivere in una nostra classe una volta che è pubblicata diventa un contratto che firmiamo con il mondo esterno che non possiamo più cambiare. Diventa un API che noi ci impegniamo a rispettare nei confronti di quelli che la dovranno utilizzare. Quindi state il più chiusi possibile. Non dichiarate tutti i metodi public soprattutto se non servono. Quali sono i vantaggi di scrivere codice in questo modo? Beh, se noi isoliamo le responsabilità sicuramente i motivi per un model di cambiare saranno sicuramente meno. È un po' l'esempio che facevo prima di Paypal se cambia un metodo cambia solo la classe che fa riferimento a quel metodo. Quando anche dovessimo cambiare un model chiaramente sarà più semplice farlo perché avremo una classe con un'interfaccia più semplice con metodi, con firme più semplici diffidate da metodi che hanno molti parametri perché quello è un indicatore del fatto che c'è qualcosa da ristrutturare. Se un metodo accetta 3-4 parametri se ne accetta 15-10 ad eccezione dei constructor in Magento 2 che sono un discorso a parte. Le considerazioni fatte valgono chiaramente anche per i blocchi che sono classi ma su blocchi e template possiamo aggiungere qualche altra considerazione. Sapete che blocchi e template fanno parte del componente view della nostra architettura. I blocchi dovrebbero essere responsabili di recuperare i dati per la presentation e i template dovrebbero, sottolino tre volte, soltanto occuparsi del rendering di questi dati. Bisogna ispirarsi quando scriviamo blocchi e template al principio single point of definition altrimenti noto come dry, don't repeat yourself. Cioè non andiamo a scrivere codice la cui responsabilità è altrove. Non andiamo a leggere un valore dalla store config in un blocco men che meno in un template. Esistono gli helper che sono deputati a incapsulare questa logica. Non andiamo a fare una query attraverso un resource model o peggio ancora attraverso una query diretta su db in un blocco in un template. Questa è una operazione da delegare ai model. Sono loro che devono esporre i dati ai blocchi. Quando possibile subappaltiamo i processi di rendering a sottoblocchi. Un ottimo esempio è il blocco pricing. Magento che viene utilizzato non solo in un punto, viene utilizzato nell'elenco prodotti, nell'elenco dei risultati della ricerca, nella scheda prodotto. Ecco, quella la logica ci deve essere utile. Attenzione, i template, qui dico una cosa che Magento stessa non fa, quindi non è detto che quello che fa Magento sia sempre necessariamente best practice. I template, più template possono fare riferimento allo stesso blocco. Allora, il mio consiglio è di non andare a utilizzare helper e model dentro un template. centralizzate questa logica dentro ai blocchi, altrimenti poi dovreste ripetere questo codice che fate in un template in tutti i template che fanno riferimento allo stesso blocco. Spostate nel blocco il codice che accede a model ed helper e avrete scritto una volta sola e non vi sarete ripetuti. Infine, una nota doverosa, perché non è del tutto nota, ricordatevi che i custom block di default non usano la cache di Magento, perché la cache di Magento viene abilitata soltanto dalla proprietà cache lifetime, che nella classe astratta che andiamo a utilizzare quando creiamo un nostro block è impostata nulla. Attenzione perché in qualche versione fa di Magento lo stesso menu delle categorie non usava la cache, che voi l'abilitaste o meno. Questo vi può causare grossi problemi di performance. Controller sono l'ultimo dei tre componenti dell'MVC. Per definizione un controller è il manager dell'applicazione, riceve l'input dell'utente, lo valida e in funzione di questo determina il passo successivo. Sui controller dobbiamo stare attenti a una cosa, sempre se vogliamo lavorare aderendo a delle linee guida di buone pratiche. Il controller è vero che vale dall'input dell'utente, ma attenzione, deve valutare, validare la sintassi di questo input. L'esempio della carta di credito aiuta a capire. Se devo transare con una carta di credito inserisco 16 cifre. Il controller deve verificare che ho inserito 16 cifre, è giusto che lo faccia. E se io non le ho inserite mi torna indietro con un errore. Ma non deve assolutamente contenere la logica che valida se quelle cifre corrispondono a una carta effettivamente valida e transabile. Questa è una competenza, una responsabilità che dovrà essere in un model quindi il controller delegerà al model la richiesta, questa carta è valida, il model risponderà sì o no e il controller di conseguenza deciderà che cosa fare se tornare a un messaggio di errore o far procedere. Chiudiamo con un componente che non c'entra tanto con l'architettura MVC, sono gli helper. Però è giusto citarli, a mio avviso. Non sono il cestino della spazzatura, gli helper. Gli helper non sono il posto in cui andiamo a infilare quanto non sappiamo dove infilare. Dovrebbero essere dei contenitori di funzioni utility, quindi conversioni valute, conversioni formati, formattazione stringhe. Non devono contenere logica, non dovrebbero contenere logica. Spesso vedo logica negli helper, non va bene. Se avete una logica così complessa che non riuscite a individuare un model che ne possa diciamo reclamare la responsabilità, significa che dovete creare un cosiddetto service model, di cui avete un ottimo esempio dato da Magento nella classe service quote, che è quella che è deputata a processare il place to an order. Quindi è un model, non è il model tradizionale, non è l'entità persistita su database, è un model nel senso che è una classe, comunque un modello, che va a interagire con altri model, con altri e con altre entità in una logica più complessa ed è lei che è deputata a detenere questa business logic. Passiamo ad un altro argomento. Scusate se vado veloce, ma sono tanti e ci tenevo più o meno a toccarli tutti. Questo è un punto molto dolente. Lavorare con i dati su Magento è imprescindibile. Quasi tutti hanno a che fare con questo tema. Attenzione che se non ci ispiriamo a un determinato principio nello scrivere codice che legge o scrive dati su Magento, possiamo incorrere in gravi problemi di performance. Il principio è quello di scrivere codice che scala. Codice che scala significa fondamentalmente codice le cui performance non sono direttamente proporzionali alla quantità di dati che abbiamo nel nostro store. Dobbiamo scrivere codice in questo modo per due ragioni. La prima, da sviluppatore di estensioni. Non saprò su che tipo di store la mia estensione sarà installata. Potrebbe avere 100, come 1000, come un milione di prodotti. Seconda ragione, da sviluppatore di soluzioni custom, tipicamente all'inizio del processo di sviluppo di una soluzione non è detto che io abbia visibilità su quello che sarà il catalogo finale. Ricordiamoci anche che Magento attraverso i configurable product, un prodotto con 5 varianti colori e 10 varianti taglia significano 51 prodotti. Quindi facciamo presto a scalare nel numero di prodotti che potremmo avere a catalogo, anche se magari il catalogo è esiguo. Non mi soffermo su flat e AV perché sono concetti che do per scontato. Qui in questa slide, che poi magari vi leggerete con tranquillità, sostanzialmente do alcuni ragguagli sulle differenze. La cosa che mi interessa farvi vedere sono questi esempi. Sapete che l'entità prodotto può essere, diciamo che è un'entità EAV in Magento, può essere trattato in modalità flat. Ma sapete anche che non tutti gli attributi di questo prodotto vengono copiati nella tabella flat. Alcuni non vengono copiati. Per una serie di logiche che non sto qui a esporvi. Quando non vengono copiati, ma noi nel nostro ciclo che fa vedere i prodotti ne abbiamo bisogno, la cosa più semplice da fare, ma anche la più sbagliata, è questa. Probabilmente molti di voi lo hanno visto, forse fatto. Il problema è che questa roba qua spesso la fanno anche o estensioni che andiamo a comprare dal marketplace o temi, che è ancora peggio. Considerate che spesso estensioni e temi sono sviluppati sui sample data di Magento. Quindi un'istruzione di questo tipo non fa una grande differenza in termini di prestazioni. Il modo migliore di scrivere codice di questo tipo è quello di andare a precaricare i dati prima di entrare in un loop, perché il loop sarà lungo quanti saranno i prodotti che ho, quindi è proporzionale alla dimensione del catalogo. Quello che vedete qui invece non è proporzionale, perché io faccio un precaricamento di tutto quello che mi serve prima di entrare nel loop. Se non vogliamo credere alle righe di codice, alle parole del sottoscritto, guardiamo questa tabellina. Attenzione, questa roba qua è fatta comunque sui sample data. Il codice che avete visto prima ha queste differenze. Il dato però che deve impressionare qui, oltre alle differenze di ordini di grandezza, non è esplicito, ma è il fatto che utilizzando una load in un loop, questi numeri crescono al crescere dei risultati del collection, mentre questi rimangono costanti. Quindi vuol dire che se con i 300 prodotti dei sample data, io ho 800 query, 1000 join e 4 secondi su una macchina di sviluppo, su un portatile, tranquillo, non parliamo di server, ma comunque sono i valori relativi che ci interessano. Se vado a caricare 100.000, 200.000 prodotti, che cosa può succedere? Che il cliente si incavola. Stessa cosa vale per metodi apparentemente simili, ma che differenza ci sarà mai tra fare un account o fare un nugget size in una collection? Beh, c'è una bella differenza. E la differenza è data dal fatto che il count va a effettuare la query di una collection e va a leggere l'elenco dei risultati. Mentre la get size va a effettuare uno statement di count e SQL. La differenza in termini di prestazione la vedete. In questo caso per renderla un po' più evidente l'ho fatta su un catalogo un po' più corposo, ma comunque stiamo parlando di cataloghi esigui. Quindi, grosse differenze in termini di elaborazione e di memoria utilizzata. Iterare una collection, anche qui, stiamo attenti. Questo è il modo classico. Probabilmente tutti abbiamo fatto questo. Cioè, prendiamo una collection, cicliamo. Non scala. Ci sono metodi che Magento ci dà che magari sono meno conosciuti come la get data sulla collection sulla quale possiamo comunque iterare che restituisce l'array dei data dell'entità o il fetch item sempre da chiamare sulla collection che ci restituisce un varian object con il campo data valorizzato con i dati dell'entità che ci danno differenze in termini di prestazione notevolissime. E questa roba qua magari quando andiamo a scrivere una procedura di import-export fa una gran differenza tra poter dire cliente il tuo catalogo te lo importo in un'ora o cliente il tuo catalogo te lo importo tra due mesi. Ok? Perché su numeri piccoli abbiamo due ordini di grandezza. Su numeri grandi queste robe qua esplodono. Ultimissimo esempio abbiamo parlato di leggere dati e anche scrivere i dati è un'operazione che può creare dolori. Possiamo bucare un livello di astrazione cioè il save di un'entità quando magari ci interessa cambiare il valore di uno o due attributi è inutile farlo su tutta l'entità. Possiamo bucare un livello andare a livello di resource model e chiamare la save attribute su quello specifico prodotto e su quello specifico attributo scusate. La differenza anche qua è esageratamente visibile sempre sui sample data sempre sulla mia macchina di sviluppo. Ultimo argomento estendere quanto manca scusate? Perfetto estendere magento vado veloce probabilmente sono concetti che conoscete ma vale la pena rispolverarli non questo mantra probabilmente l'avete visto vi è stato detto vi è stato insegnato non toccate mai i file core per quale motivo? Voi direte perché altrimenti magento non è upgradabile io vi dico no perché è inutile nel senso che se veramente avete la necessità di cambiare un file del core e può succedere a me è successo perché dovevo patchare il core di magento c'è una tecnica detta di monkey patching che ci consente di copiare un file del core dal code pool core al code pool local e possiamo andare a modificare il file senza toccare il file originario questo è veramente uno dei pochi casi d'uso di questa tecnica che comunque è da considerare volatile cioè si spera che poi dopo un po' magento rilasci la patch ufficiale cancelliamo la nostra copia mettiamo la copia di magento e siamo a posto un altro caso d'uso personale che magari potreste trovare comodo è quello di fare rapid prototyping voglio devo scrivere un modulo che si aggancia a un evento che fa una cosa in un determinato punto di codice ma funziona non funziona è performante faccio un monkey patch lo testo senza stare a creare il modulo e tutto il resto funziona bene cancello e faccio il modulo ovviamente per estendere magento le funzionalità core di magento esistono metodi migliori conoscete forse le rewrite sono diciamo un metodo cosiddetto upgrade safe cioè eventuali poi aggiornamenti del core di magento non possono essere fatti e i nostri rewrite continuano a funzionare sapete anche forse che però questo sistema può comportare conflitti perché essendo fondamentalmente un dizionario le rewrite si basano sul fatto che magento usa factory per istanziare determinati tipi di entità è un dizionario dove a un alias viene associato una classe effettiva è un dizionario quindi è un entry uno a uno se due moduli fanno la stessa rewrite vanno a pestarsi i piedi ok chiudo rapidamente ovviamente il modo migliore è quello di utilizzare gli eventi hanno il vantaggio di non comportare conflitti hanno lo svantaggio che come direbbe qualcuno no eventi no party cioè se non c'è un evento dispacciato in un punto di codice non possiamo agganciarci doveroso citare gli interceptor sono un concetto nuovo che introduce magento 2 è una sorta di evento che viene dispacciato all'inizio alla fine di un metodo senza che lo sviluppatore lo debba fare manualmente c'è un modulo che qui trovate referenziato che vi abilita gli interceptor anche su magento quindi potrebbe essere interessante andare a vedere come funzionano il contro degli interceptor che non faranno quindi abbandonare l'uso degli eventi neanche in magento 2 che gli interceptor consentono di agganciarsi all'inizio o alla fine di un metodo ma non in mezzo quindi se io ho bisogno di mettermi in mezzo a una logica di un metodo e ho bisogno di un evento dispacciato lì altrimenti non riesco in conclusione usate i tool migliori usate il run time per fare prototyping per fare procedure batch di import export non legatevi alla dipendenza dei log estendete l'autoloading ne vale la pena potete accedere a molti più librerie a disposizione della community usate la testa quando scrivete componenti NVC attenzione a scrivere codice che scala non toccate mai il core preferite gli eventi alle rewrite e studiate gli interceptor questi argomenti molti altri approfonditi ridotti corretti li sto scrivendo in questo libro che prevedo di pubblicare a giugno c'è uno sconto riservato a voi vi ringrazio se c'è tempo qualche domanda altrimenti finiamo qua grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti